Il silenzio, paradossalmente, è un luogo di incontro tra diversi, di dialogo. Ne parliamo con Alessandro Bonardi, che è il coordinatore del progetto Stanza del Silenzio e dei Culti. Cos'è la Stanza del Silenzio? Per noi del gruppo nazionale di lavoro per la Stanza del Silenzio e dei Culti, in senso sociologico, è un dispositivo dove, per esempio, nel sistema sanitario è possibile pregare o ricevere assistenza religiosa negli ospedali, cosa che in Italia riguarda solo una ventina di ospedali. Ma può anche espandersi in altri ambiti sociali, come la città, pensiamo alla Sala delle Religioni di Torino, dove diverse comunità religiose possono convivere. Per me anche un approccio che viene dall'intercultura rappresenta anche una modalità per far incontrare i migranti presenti nel nostro territorio, cioè mettere in rapporto le comunità dei migranti con le istituzioni, quindi all'interno delle città, dei quartieri. Poi, perché no, ne parleremo qui alla conferenza, anche negli aeroporti, nelle università. Se ne pensiamo tutti, per esempio, che in Inghilterra o in Francia, le università sono piene di sale di meditazione o stanze del silenzio che raccolgono la possibilità per tutti gli studenti di pregare, naturalmente in quel caso in silenzio. Grazie. Grazie. Grazie.